Bentornati sul canale, bentornati in questo nuovo 2020 e iniziamo questo 2020 dandovi un augurio diverso fuori dal coro voi vi immaginereste un video dove ci sono tanti auguri, buon Natale, buon anno no, no, perché oltre ad essere nettamente in ritardo noi vi vorremmo regalare un gran bel sorriso abbiamo unito in questo video tutti i nostri errori, le nostre scelte simpatiche dell'ultimo anno, anno e mezzo e ne abbiamo fatto un piccolo video che inaugura questo nuovo anno, questa nuova decade e che spero vi piace e vi faccia iniziare col piede giusto quindi armatevi di fazzoletti per le lacrime e godetevi il video come detto il mio collega ci troviamo qui oggi per riuniti per celebrare la santa messa di sempre con il rillo bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono famigerio, io sono famigerio e se vuoi andare a fare il culo a tutti se vuoi andare a fare la cacca se vi vuoi interessare e seminare con questa cacca se volete, dico in modo educato, vado a mandare una lettera al papa voi quando mandate una lettera al papa non ci mettete dell'impegno, non ci mettereste dell'impegno del tempo, della passione e entro quando non entra al papa il vicinato il vicinato è fastidioso e lo sentirete per tutto questo tutorial lo sentite? io amo i cani mannaggia a te vai Sandi che si chiama bene è uno scroff ma no dai tanto farei questa canon odia le persone con la barba esatto, dovrei che figli della merda e queen aia astro delce pelo or my god succhiaca eh capo a fiori ah agli elfi buoni che crea anche un intersecarsi di e che cazzo oh, silenzio fare silenzio fare ma fai piano scusate dalla durata di 45-60 l'ultimo video di tralinghello esatto perché spacca una macchina e comunque no, dovresti fare e comunque quando è meglio ma l'hai visto pure l'altro giorno, no? guarda, spacca il da metto e cosa che fa cosa che fa tendenza su YouTube? è vero benissimo, grazie tranquillo, tranquillo lo tagliamo, tranquillo ok auguri il primo grande torneo internazionale di l'ha presa al culo al culo con l'eco il primo grande torneo internazionale di belgamon fu 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 heard of the ahahah intanto ohhh ho Sicurie Sp Schwick ho le ciabatte fighissime comunque Io qui c'ho Charmandia, ma voi vedete Bulbasauro, oppure vedete Blastoise, questa è Charmandia. Lecocca che segno sei tu? Cancro. Però uno potrebbe essere rimasta ancora. Tu segno sei? La Vergine ti è messa in Vergine. Io e te. I segni che non piacciono a tutti perché dicono le cose in faccia e sono sinceri. Vergine, cancro e rete. Che cazzo sta succedendo? Passiamo quindi alla MS ed... Ma le dobbiamo fare forza? No, ma lo sai qual è il problema? Non t'offendi, scherzo. Offesa. Dormi sempre quando devo dormire o poi... Esatto! Cioè dormi sempre, no? Ma ma che foto dormiti sta a rompe i coglioni sul mio? Ma sei un diverto. Ma questo è quello che è io. Io subisco sempre. Sto passando le milioni, milioni... Della politica! Sto andando tutto male! E con la luce divina che mi illumina... Vi auguro... Un albero di Natale. Le luci! Il gioco paper di gumb.. GUMBO paper di gumb... Si ma bobo di gumb- Si ma bobo di humo È bobo di mbo.... Goobots pav bombo di... ods pav bombo di gumb- Non so che... Non so che... Non voglia! Non voglia che va la tutta in rivolento Sono una parte di Avo bene e male è una piccola parte di Avo non è che è una progenita che ha portato tutto questo è diverso io pensavo che lui aveva un progetto che gli sparo e c'era la fretta poi avrà un'idea Chiudo il cala e ti fermi Poco me Nostro calente Faccia di scimmia Con la voce Al final Guarda, ha presciuto C'ho mal di gola E' il nano che esce poi Perché sarebbe? Non è un maltrattamento E' amore Non è un maltrattamento Non è un maltrattamento E' amore Non è un maltrattamento 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 Grazie a tutti